Buongiorno ragazzi, come vedete anche da una camera da letto ci si può allenare. Abbiamo cambiato location, non siamo più nella nostra palestra, però ho qui qualche idea per voi per allenarvi a casa. Oggi ci proviamo con un manello asciugamano che tutti possediamo. Siamo pronti, li barricchiamo le gambe, pronti per mangiare. Oh, benissimo. Punto i piedi, ricordatevi che io vi farò vedere 8 ripetizioni per l'esercizio, ma poi voi risolvete 32. Attenzione, vengo di lato. 2, 3, 4, 5, 6, attenzione, tiriamo, tiro, ritorno. Tiro, non faccio solo l'altra, ricordatevi, ancora, fuori l'aria mentre salvo, dai. e 5, e 6, e 7, attenzione, guardate le braccia, vengo in avanti. 8, 7, 6, 5, e 4, e 3. Fate attenzione, guardate che si cambia. Tiro sotto, ma piccolino, e piccolo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, attenzione, spingi avanti, e spingo, e torno. Spingo, ancora, 3, e 4, e 5, e 6, attenti, eh, si cambia ancora. Vediamo in avanti, siamo pronti, eh? e spingo, e torno. 2, 3, 4, 5, 6, 7, fate attenzione, fermiamoci qua, e piego, e spingo, i quattro piedi sono paralleli, un bello squat. 3, e 4, ancora, 5, 6, 7, aggiungo braccia, attenzione, prima piego. Mi fermo, e spingo, e su. Prima piego, e fermo, e spingo, e su. Prima piego, e fermo, e spingo, e su. Prima piego, e fermo, e spingo, ancora. Piego, vai. Molto bene. E piego, e faccio ancora due. E piego, e questo è l'ultimo. Ho ancora un bel dolcizzo per voi. Costa bene il tuo asciugamano. E dietro, guarda, come faccio vedere così. Benissimo. Ancora 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ola. Benissimo. Buon allenamento ragazzi. Al prossimo tutorial. Buon allenamento ragazzi. Grazie a tutti.